Allora torniamo in diretta qui, qui si festeggia, la notte sarà molto lunga con il nostro Roberto Fusillo. Roberto, subito le prime grandi emozioni del match e della serata. È stata una sofferenza, è stata una partita dura, difficile, con le unghie e con i denti. Partiti male, abbiamo rischiato il gol, meno male che quel fallo di mano l'arbitro l'ha giudicato involontario perché sennò era espulsione di Bastos e Lazio in dieci e rigore. Roberto, è servita la prestazione in campionato perché abbiamo visto una Lazio molto accorta, fin troppo, specie nella prima frazione. Beh, assolutamente sì, una Lazio più accorta, più sicura di sé e soprattutto cambia azzeccati e anche l'entrata di Milinkovic nel finale ha sbloccato la partita, l'avevo detto quando l'ho visto scaldarsi ho detto entra lui e la sblocca lui. È un giocatore importante che quest'anno non ci ha dato quello che ci doveva dare però ci ha regalato la Coppa Italia, ci ha regalato l'accesso all'Europa League e ci ha regalato la finale di Supercoppa Italiana. Quindi grazie Milinkovic. Pensate cosa poteva essere invece il contrario, quindi questo significa adesso che però bisogna programmare il futuro, non bisogna fermarsi e migliorare questi organi. Assolutamente sì, diciamo campionato finito, due partite da onorare, siamo in Europa League, quello è il nostro obiettivo, stiamo tranquilli e facciamo una Lazio più forte, più grande per poter ambire l'anno prossimo alla Champions League e magari andare a fare una finale di Europa League perché mi sono stupato di vincere queste Coppe Italia, queste Supercoppe italiane è ora di andare oltre i confini italiani. Però in questa città è ancora sempre la squadra bianco celeste a vincere e a primeggiare. Beh assolutamente sì, la Roma non vince da dieci anni, la Lazio ha vinto l'ultima volta nel 2013, poi la Supercoppa italiana successivamente e poi quest'anno la Coppa Italia, quindi Lazio e Juventus vincono gli unici due trofei in ballo quest'anno e le uniche due società che hanno vinto qualcosa. Noi ringraziamo naturalmente Roberto per tutto il lavoro, continua la festa qui. Continua la festa, continua la festa. Ci sono i giocatori, la notte sarà molto lunga. Assolutamente. Forza Lazio. Forza Lazio.